Ha visto un'auto andare a fuoco e ha cercato di estinguere il rogo. Bel gesto da parte di una donna intervenuta rapidamente mentre stava attraversando via Spine, a Canicattì. A completare l'opera di spegnimento delle fiamme ci hanno poi pensato i vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri. Sulle prime sembra che le fiamme siano partite accidentalmente. L'auto in questione è una Fiat Idea che era stata parcheggiata da una 34enne del posto che ha in uso la vettura, intestata invece a un cittadino rumeno. Saranno adesso gli accertamenti dei militari dell'arma a stabilire cosa abbia innescato l'incendio. I carabinieri, come da prassi in queste situazioni, hanno anche ascoltato l'utilizzatrice della vettura per capire se abbia avuto dei dissidi con qualcuno e se l'auto avesse dei problemi.